Dopo articolate e laboriosi indagini, ieri sera la polizia ha scoperto a Vittorio un'altra centrale di spaccio, in particolare il tipo eroina. Negli ultimi mesi infatti si è registrato in città un notevole incremento proprio nell'uso di questa sostanza stupefacente che sembra tornata prepotentemente in auge tra gli assuntori e, fatta ancora più grave, si sono stati diversi casi di overdose non solo a Vittorio ma anche in altri centri della provincia. Proprio ieri, nei press della Fioremaia, agenti del locale commissariato hanno bloccato due tunisini che avevano appena ceduto 1,2 grammi di eroina ad un giovane arrivato appositamente da Caltagirone per acquistare lo stupefacente. Sul luogo dell'intervento sono state sorprese altre persone, tutte note come assuntori di stupefacenti. Il giovane Calatino, tra l'altro, aveva appena pagato 70 euro per avere l'eroina. I due spacciatori, Abelaziz Amri, 21 anni, e Amza Clifi, 19, sono stati quindi perquisiti e trovati in possesso dalla somma in denaro oltre due stecchette di hash del peso complessivo di 4 grammi. Successivamente è stata perquisita anche alla loro abitazione un vano fatiscente privo dei più elementari servizi igienici. Durante il controllo sono stati anche rinvenuto un cortello con la mannerita, entrisa di sostanze stupefacenti, una pistola clandestina con caricatore 49 cartucce calibro 38 e diversi oggetti e gadget elettronici quali una videocamera, 11 telefoni cellulari di varie marche, una macchina fotografica e un paio di occhiali Ray-Ban. Tutto il materiale è stato sequestrato mentre le indagini proseguiranno per accertare la provenienza del materiale.